Si deve soldi a andarsene, non credo che sia corretto. La prima volta che accade una cittadina così vivace, che appunto una storia d'amore rubasse vocazioni alla Chiesa. Innanzitutto tengo a dire che non era un prete, perché è stato scritto che era un prete, ma non lo era. Però era un religioso che aveva fatto i voti. No, non è la prima volta, credo. Io non sono un antico qui, sono un mesco arrivato da poco. Però no, non mi risulta, ma è vecchia come la terra questa cosa. E appunto per questo dico, se questo ragazzo ha pensato di fare un'altra scelta, perché è l'idea di Dio, portarsi soldi, non proprio no.